Silvio di Benedetto, Giobbe Ricchini, Don Romano Polonia. Cos'è la sgambata dei castelli? Silvio di Benedetto. È un percorso dei nostri bellissimi paesi, una gara che non è competitiva, ma è una gara per trovare tutte le famiglie e fare un percorso tutti assieme. E per valorizzare il sentiero dei castelli. Valorizzare il sentiero dei castelli. Don Romano? Ma credo che sia un momento di aggregazione che raggruppa un po' tutta la comunità, sia i ragazzi sia i giovani, sia chi ha voglia di camminare. Perché sono 14-15 chilometri, quindi secondo me vale la pena. Io l'ho fatta e sono qui a raccontarlo. Bene, Giobbe tu non l'hai fatta, però hai aiutato come volontario, giusto? Esatto. Bene, perfetto.